Ciao come va? Nel video di oggi ti insegnerò ad allacciarti le scarpe in un solo secondo. Vediamo come funziona. Ma qual è il procedimento per farlo? Allora afferriamo entrambi i lacci con tre dita. Con il pollice e l'indice sinistri rottiamo all'indietro per poi tornare in su. Facciamo invece al contrario con il pollice e l'indice destri. Rottiamo in avanti per tornare su. Una volta raggiunta questa posizione afferriamo con pollice ed indice di ogni mano il laccio che si trova nella mano opposta per poi tirare verso l'esterno. Ed ecco fatto! Un po' di pratica e riuscirai ad allacciare le tue scarpe in un secondo, al massimo due. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo. Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!